Non è una nozione scolastica, né una corrente filosofica, non saprente tra i banchi e neppure nelle aule universitarie. Eppure rappresenta in ugual modo, se non di più, una pagina di storia, personale di Ciascheduno e comunitaria per tutta Corigliano, autentica lezione di vita e di pensiero, simbolo d'umanità e professionalità. E il combattente, che dopo tantissimi anni chiude le proprie serranti in viale di membranze nel cuore del borgo antico ausonico. Gio Ciccio Madeo, come da tutti affettuosamente conosciuto e soprannominato il signor Francesco, stimato e garbato concittadino, professionista del settore e persona da sempre impegnata anche per la promozione del territorio, abbassa sì le saracinesche del suo storico locale, ma non quelle del proprio cuore. Un cuore che parla di impegno, solidarietà, trasformazioni sociali del centro storico, capace di rapportarsi all'insegna dell'animo generoso con grandi e piccini. È un uomo d'altri tempi, nel vero senso della parola, ma ancor più un operatore del mondo del commercio che vive e respira la terra che gli ha dato i Natali. La sua storia continua ad essere portata avanti, con orgoglio e altrettanta professionalità, dal figlio Luigi del resto della famiglia in Viale della Libertà, epicentro paesaggistico del borgo marinale turistico di Schiavonea, sullo sfondo dell'azzurro del mare e dell'imbido cielo. Molto ci sarebbe da dire perché il combattente ha accompagnato la nascita e la crescita di intere generazioni, oltre a configurarsi come un punto di riferimento di qualità e di socialità, e pertanto non ha bisogno di ricorrere alla retorica. Il miglior commento sono i fatti, dagli ottimi gelati e granite alla cordialità intessuta quotidianamente. Grazie dunque alla famiglia Madeo per continuare a costituire un prezioso baluardo di stile e di nobile tradizione artigianale.